Quando c'è qualche problema, eh non puoi votare, che ti pare che voti quando c'è la pandemia? E che ti pare che voti quando c'è la guerra? E che ti pare che voti quando sale lo spread? E che ti pare che voti se si lasciano Totti e Ilari? Non si può! Non si può, bisogna aspettare! Bisogna aspettare che il PD si inventa un modo per rimanere in sella, pure se gli italiani non lo vogliono votare! E invece l'esatto contrario è quando c'è una tempesta che tu hai bisogno di chiedere ai cittadini chi deve essere il capitano della nave!